Faker Kalissa Fa tipo due volte che la gioco Mamma mia Ma questo che gli ho fatto Poi c'è un main support di Asuo Cioè, me sa scherzare Cioè, main support di Asuo Livello 6, easy win Guarda, guarda il main faker iscriviti al canale Che usa? Calizza? Tempo letale detto, vero? Sì Bella! Grazie per il like, ragazzi Mamma mia, ragazzi, che botte! Mamma mia! Mamma mia! Ragazzi Cioè, ma che li ho fanno? Lo tommeno, ragazzi Mamma mia, ragazzi Mamma mia Mamma mia Ma che gliel'ho fatto un botte, ragazzi Mamma mia C'è Mamma mia Mamma mia Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Ma quando chiedevo alla fine, ragazzi Ma quando chiedevo alla fine, ragazzi, eh? Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ma che cazzo Mamma mia 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 Mamma mia